Il santuario di San Pellegrino in Alpe rischia la chiusura e questa è una eventualità che va assolutamente evitata, perché San Pellegrino non è soltanto il santuario né il suo destino, è di sola pertinenza dell'Arcidiocesi di Luca, anche se la curia né la naturale custode. In realtà lassù si è sviluppata, si è snodata una storia che non è stata esclusivamente soltanto religiosa. Basti pensare che San Pellegrino in Alpe è una linea di confine con tutto ciò che questo comporta, confine tra la Toscana e l'Emilia e confine tra i viaggi mitteleuropei e i viaggi verso il mare dei Pellegrini, verso Roma, verso Gerusalemme ed è soprattutto il luogo che ha accumulato da secoli una formidabile memoria storica che riassume narrazioni religiose e narrazioni laiche, storie di guerre e di briganti e storie di santi. E questa storia è integra nella percezione delle comunità toscane. Da celebre ospizio che ospitava appunto i pellegrini che andavano verso Roma e Gerusalemme, l'abbazia è oggi diventata un bene culturale di cui la regione necessariamente deve farsi carico e non è un caso che ospiti il più affascinante museo di civiltà contadina del centro Italia. E se l'Arcidiocesi di Lucca non è in grado di assicurare tutte le funzioni religiose, comunque è indispensabile che la regione si occupi dell'abbazia in modo che essa sia resa disponibile a tutti come sempre stato. Grazie.